Sarà giornata a Verdamaranto, così la società della San Cataldese ha annunciato con un post social l'arrivo del Trapani al Valentino Mazzola. Per la squadra di Infantino, la ventisesima giornata del campionato di Serie D, Girone I, prevede il big match contro una delle nobili decadute del torneo. Il presente dei Granata racconta la rincorsa all'obiettivo play-off. Sono lontani i tempi in cui il Trapani regalava emozioni nel calcio professionistico, con la Serie A svanita nella finale play-off, persa contro il Pescara. Era la stagione 2015-2016, Sterse Cosmi in panchina. Da quell'istante l'illusione dell'apoteosi si declinerà quattro anni più tardi nella mesta realtà del fallimento, dichiarato il 22 dicembre 2020. Da lì la rinascita dalla Serie D culminata con l'arrivo nel 2021 dell'imprenditore catanese Marco Larosa, che ha deciso di puntare sul calcio a Trapani, acquisendo le quote maggioritarie del club. Per la San Cataldese quindi un pomeriggio di gala, in cui lo stadio Valentino Mazzola sarà vestito come soltanto le grandi occasioni meritano. Giornata Verda-Maranto, stoppa gli abbonamenti per l'occasione, con il costo del biglietto che va dalle 15 euro della gradinata centrale agli 8 euro della curva. Per la San Cataldese la migliore occasione per dimenticare la sconfitta contro il Santa Maria Cilento. Per il Trapani la possibilità di scalare la classifica in vista dell'obiettivo playoff, in mezzo 90 minuti per decidere fra la gioia o la disperazione. Calcistica si intende.